ciao a tutti oggi voglio parlarvi di un classico disney del 1995 se non sbaglio che è il re leone in particolare voglio darvi una mia opinione beh sappiate che la mia opinione non è granché cioè anzi io sinceramente penso che il re leone sia un film che fa anche abbastanza schifo lo so lo so molti pensano che sia un capolavoro molti pensano che sia un grandissimo film fantastico bellissimo però vi dico la verità io non la penso così è una mia opinione se volete ne possiamo parlare nei commenti possiamo discuterne pacificamente non facciamo flame perché non stiamo discutendo del futuro dell'umanità ma semplicemente di un film e qui in questo video voglio anche spiegarvi i motivi che mi pensano che mi portano a pensare che che il re leone non sia tutto questo gran film i motivi sono tanti ma siccome non voglio fare un'analisi approfondita scena per scena di tutto di tutta l'opera di tutto il re leone voglio dirvi semplicemente alcune cose alcuni passaggi importanti prima di iniziare ad entrare nel dettaglio voglio fare un excursus su una polemica che è durata per molto tempo riguarda il fatto che simba e re leone sia stato copiato da un anime e da un fumetto giapponese che si chiama kimba sicuramente voi avete conosciuto kimba il leone bianco e avete sentito parlare anche di questa polemica dovete tenere in considerazione che questa polemica è inutile addirittura gli autori stessi di kimba hanno smentito la possibilità che ci sia stato un plagio o qualcosa del genere su internet girano tanti video che mettono a confronto alcune scene del re leone con alcune scene di kimba e i video sono molto suggestivi perché fanno fanno sembrano scene identiche c'è quella scena dove c'è il leone che c'ha il cucciolo in mano in un certo modo e di là kimba c'è pure uguale anche per esempio è stato molto famoso l'idea di scar questo leone con la cicatrice e in kimba c'è pure un nemico dove un leone con una cicatrice però sono pretestosi sono sono fatti proprio per creare per creare un qualcosa che non esiste come è possibile allora come si può com'è che esistono queste scene la cosa è semplicissima kimba il leone bianco è un è una storia che va avanti da molti molti anni è un fumetto molto antico credo che le prime le prime puntate di di kimba risalgano agli anni 60 addirittura sono stati fatti centinaia di episodi sono stati fatti centinaia di albi a fumetti quindi in qualche modo se tu racconti la storia di un leone bianco nel suo ambiente naturale in mezzo agli animali prima o poi per forza arriva un facocero un cinghiale allora lo metti vicino a pumba e dice ecco vedi pumba è copiato no in 500 storie che ho raccontato una volta un cinghiale sarà spuntato però se vai a vedere la storia dove appare quel facocero quel facocero non è che è il miglior amico di kimba che che c'è cresciuto assieme l'ha allevato dopo che dopo che suo zio ha cercato di di uccidere il padre cioè non c'entra niente quando si vede il leone con la cicatrice sull'occhio non è che nemico di tutta la serie per cui lo segue tantomeno è lo zio di kimba tantomeno ha a che fare con la storia originale del re leone andate ad approfondire questo argomento se avete sentito anche voi di questa storia del plagio della disney nei confronti di kimba vi consiglio di approfondirla perché sarà bello scoprire che che non è così e andare a sciogliere singolarmente tutti i nodi che alcuni hanno creato ad arte per per far sembrare una cosa che in realtà non è partiamo dal presupposto che il cinema è un'opera corale che vuol dire mentre un libro è scritto solitamente da un autore che controlla ogni cosa dall'inizio alla fine come uno un pittore o uno scultore come quasi tutti gli artisti sono loro in prima persona a decidere ogni aspetto dell'opera che stanno producendo il cinema è sviluppata e creata da una molteplicità di esseri umani per me come fruitore quindi andiamo nella mia opinione personale gli aspetti e l'aspetto fondamentale di un'opera cinematografica è la sceneggiatura anzi in particolare la coerenza interna della sceneggiatura e dei personaggi se durante un film un certo personaggio esprime alcuni valori alcuni valori personali alcune sue caratteristiche specifiche a livello mentale e morale se poi alla fine del film o a metà film a un certo punto quel personaggio fa delle scelte fa fa delle azioni che vanno contro a quelle che erano le premesse del suo personaggio a me stona cioè ripeto tutti possono cambiare tutti i personaggi possono cambiare anzi di solito il film il cinema racconta proprio la crescita di un personaggio racconta un suo arco di mutazione quindi è normale e lo standard quasi che un personaggio alla fine della storia faccia scelte e abbia posizioni diverse rispetto all'inizio però questa questa diversità queste posizioni sono e quasi sempre dettate dall'arco narrativo cioè non vengono tirate fuori dal cappello c'è lo spettatore quando vede qualcosa del genere quando vede un personaggio e fa qualcosa di particolarmente al di fuori di quella che la psicologia che è stata disegnata fino a quel momento di solito sorcia un po il naso magari se la fa andar bene ce la facciamo andar bene perché ci piace il film stiamo guardando un'opera di intrattenimento e quindi va bene però in generale non è una bella cosa per me questo aspetto è fondamentale dico questo è un aspetto perché l'altro aspetto l'aspetto della spettacolarizzazione quello che alcuni chiamano il circo cioè nel senso che durante il film uno vuole anche vedere lo spettacolo un film di arti marziali per esempio durante il film è bello vedere combattimenti le scene di lotta nei film d'avventura è bello vedere il personaggio che attraversa dei pericoli che si trova in situazioni particolari oppure che esplora degli ambienti nuovi magnifici immaginifici delle scenografie stupende dei panorami incredibili cioè l'aspetto della spettacolarizzazione è molto importante ma va messo a pari della sceneggiatura anzi io personalmente divido proprio questi due campi la storia intesa come la scrittura della storia è tutto il resto quindi la spettacolarizzazione la colonna sonora la regia la fotografia il montaggio che sono fondamentali importantissimi per carità però io sono disposto ad accettare una regia un po' piatta uno scavalcamento di campo una fotografia non proprio felice dei colori un po' spenti o una colonna sonora più o meno mediocre sono anche disposto a tollerarli più di quanto posso tollerare un personaggio scritto male e nel re leone secondo me i personaggi in particolare il personaggio il protagonista quindi simba è scritto davvero in maniera pessima il re leone è un'opera ispirata all'amleto di shakespeare e anche lì molti dicono ma come fai a parlare male del re leone quando è ispirato a shakespeare allora vuoi dire che shakespeare ha scritto male? no no non è così shakespeare non ha scritto male naturalmente ogni storia vale per la qualità per la per la bellezza per l'arte con cui viene messa in scena romeo e giulietta parla di due innamorati che non possono stare assieme e questa è una storia che volendo si è vista in centinaia di situazioni in centinaia di modi è successa tantissime volte nella storia a livello reale a livello narrativo solo che shakespeare romeo e giulietta lo mette in atto lo lo scrive con una maestria incredibile con un coinvolgimento una profondità con dei tempi tecnici incredibili e quindi diventa romeo e giulietta se qualcuno facesse un adattamento di romeo e giulietta fatto male fatto in maniera pigra fatto con romeo che è un idiota e giulietta che è una sciacquettina qualsiasi scusate lo sciacquettina era giusto per dare l'idea alla fine comunque viene fuori una storiella niente di che anche se avessero i diritti anche se dicessero questo film è l'adattamento di romeo e giulietta di shakespeare se la cosa è fatta male il risultato finale sarà mediocre e così è con l'amleto di shakespeare e la messa in atto del re leone sorvolo anche sul fatto che so che all'inizio scar che fa di tutto per uccidere il padre di simba poi alla fine lascia andare via lascia andare via il leoncino che fa non lo sai che questo qui può tornare può minacciare una minaccia come ammazzato il padre ammazzi il figlio te lo levi di mezzo avevi la possibilità di toglierti il pensiero sorvoliamo su questo quello che proprio non mi piace è il personaggio di simba che finisce nella foresta va trova sti due amici per carità se sei un trovatello sei sperduto sei un orfano ti metti vicino quello che puoi trovi sti due che vanno avanti costa filosofia della cuna matata che io trovo addirittura diseducativa perché dire lì alla gente ama che ti importa sì non c'è una lira ma che ti importa stai morendo di fame ma che ti importa se mori di fame se stai male non puoi dire non ti importa devi trovare il modo degli organizzarti e simba è uno buttato lì che ogni volta che incontra qualcuno cambia la sua personalità in base a chi avvicina incontra un battimono vabbè ancora piccolo e allora si fa così lo fa quello che ti se ne frega se fossimo una storia reale nel mondo vero probabilmente in quella situazione di sti tre sarebbero diventati dei ladruncoli sarebbero andati in giro a rubacchiare quella nelle case magari non facendo atti particolarmente criminali magari sarebbe entrati a casa di qualcuno gli avrebbero rubato la roba dalla dispensa o avrebbero saccheggiato un panificio per mangiare niente di gravissimo ma sicuramente non avrebbero potuto fare una vita onesta ok al limite la cosa giusta farà trovarsi un lavoretto per campare o cercare aiuto in qualche istituzione ma lì loro fanno ha una matata chi se ne frega basta che basta che cambiamo a la una matata poi simba cresce cresce e finalmente un certo punto per caso per puro caso incontra la fidanzata nalia mi pare si chiama non mi ricordo in questo momento e nalia dice no ma tu sei re devi tornare indietro devi fare e lui la vero incredibile ok scena successiva incontra rafichi che gli dice la stessa cosa cioè perché un personaggio per fare un passaggio psicologico deve avere due volte lo stesso messaggio ci avrebbe potuto incontrare o l'uno o l'altro o insieme oppure uno agiva su una parte più morale più più sentimentale uno magari su una parte più spirituale visto che rafichi rappresenta un po il lo stregone la parte più spirituale però questa cosa si perde lui è uno un povero scemo che arriva lì di a guarda che deve comandare tua va bene e quello di fa guarda che deve andare va bene e poi si deve riprendere tra e poi perché incontra scar veramente c'è secondo me simba è un personaggio di una piattezza incredibile è un personaggio che si lascia plagiare di continuo è un personaggio che non ha nessuna caratteristica per diventare un leader per prendere possesso della propria vita e ripeto inoltre è anche un modello poco educativo per i giovani se tu fai vedere un'opera a un bambino un ragazzino quell'opera in qualche modo lo modella gli da un'idea un modello un punto di riferimento di come potrebbe essere da grande e se tu quello che gli insegni è ma una matata fa come tanto poi alla fine diventi re a fortuna non voglio dire parolacce diventi re a fortuna non è un bel messaggio abbiamo tantissime storie dove i personaggi pian piano vivono delle avventure che che li fanno crescere li fanno maturare questa maturazione nel re leone non c'è mai il re leone è un personaggio piatto che modifica la propria psicologia sempre e solo a secondo di chi avvicino che si lascia guidare come un bambolotto e che assolutamente non è destinato in alcun modo a diventare un leader io mi immagino il re leone diventato re che si fa plagiare dai propri consiglieri e che per tutta la vita sarà un re pessimo dove lui ci metterà la faccia e qualcun altro deciderà sempre al posto suo non è questo quello che io vorrei per mio figlio o per eventuali ragazzini che debbono crescere e diventare la classe di dirigente di domani diventare il nostro futuro il re leone non è sicuramente il modello adeguato beh con questo finito scusate so che ci saranno polemiche che non tutti sono d'accordo mi dispiace in ogni caso cerchiamo di rimanere moderati di confrontarci scriviamo nei commenti qualche idea se volete confrontarvi se volete dire qualcosa di più io vi saluto dicendo che se vi piace questo lavoro se siete arrivati fin qua e volete sostenere il nostro canale sostenere questa attività questo lavoro vi consiglio di andare sul sito lega giochi www.legagiochi.it e acquistare uno dei nostri giochi magari il power deck che è un prodotto che abbiamo in questo momento che stiamo promuovendo in questo momento il power deck che è un mazzo di carte speciali con all'interno tantissimi giochi da tavolo tutti racchiusi in un unico mazzo di carte in pratica avete la possibilità di avere la vostra ludoteca in tasca di portarvelo sempre dietro ed essere sempre pronti a giocare a tantissimi giochi da tavolo con un unico prodotto con un unico gioco da tavolo io vi ringrazio per essere arrivati qua vi mando un bacio grazie a presto ciao ciao